Sotto le festività, come richiesto dalla ministra degli interni, ci saranno più controlli. Il prefetto di Milano però confida nel senso di responsabilità delle persone. Ci saranno sicuramente più controlli, anche flessibili secondo le esigenze, i giorni, i luoghi, ma noi siamo convinti che i controlli siano efficaci se la stragrande maggioranza delle persone non hanno bisogno di controlli. Assieme al prefetto questa mattina i rappresentanti della regione del comune di Milano per celebrare la festività di Santa Barbara, la patrona dei vigili del fuoco. Una cerimonia ridotta a poche persone per l'emergenza sanitaria, con l'arcivescovo Mario Delpini che ha dato la benedizione e si è soffermato proprio sul periodo che stiamo attraversando, elogiando i vigili del fuoco abituati a lavorare sempre in emergenza. A confermarlo anche il numero degli interventi di quest'anno. In questi 11 mesi abbiamo effettuato circa 25.000 interventi di soccorso, un numero leggermente inferiore agli anni precedenti a causa ovviamente della pandemia, del covid e quindi del lockdown. Comunque un numero decisamente significativo.